Lorenzo Bruni, una gara tosta, difficile, di grandi marcature, di tante mani addosso ma il settebello ha risposto alla grande. Sì, ce lo siamo detti, noi dobbiamo crescere man mano che il torneo prosegue, siamo in una fase di ancora un po' di carico quindi ci stiamo ritrovando, ora finalmente iniziano le partite che contano, quelle dure, quelle toste, quelle che ci alleniamo ogni anno per affrontare queste partite quindi vogliamo che arrivino ecco e siamo contenti di questo. Vista da fuori, vista da osservatore è sembrato di vedere un settebello perfetto, invece c'è qualcosa che magari a voi sembra che non abbia funzionato come doveva? No, gli errori ovviamente ce ne sono stati e anche tanti, perfetto non ne siamo stati, ovviamente gli errori ci sono come è normale che sia e noi comunque dobbiamo continuare a migliorare il nostro gioco e a prepararci per le prossime partite che saranno sempre più dure. Una marcatura quella di Skumpakis e poi quella di Archiropoulos per te davvero difficili da superare? Sì, sono due ottimi marcatori insieme anche agli altri compagni di squadra ma insieme a Marziali abbiamo tenuto e ora dobbiamo capire questo arbitraggio, chi si adatterà meglio riuscirà a avere la meglio. Dopodomani, Italia-Ungheria, che partita ti aspetta a questo punto? Una partita fisica molto pesante anche quella, però ormai siamo qua, dobbiamo lottare ogni centimetro e cercare di portare a casa il risultato. Grazie Lorenzo.